ho rassegnato le dimissioni per quello che è successo no basta con lo spazio ho un'offerta da una società aerospaziale un comodo lavoro d'ufficio soldi appalate uno stipendio davvero vergognoso e come farai a vivere dentro un ufficio comunque pare che faccia molto bene agli affari avere il nome di un eroe sulla carta intestata il fatto è che che il loro tuo di new york la nostra vita è qui spencer il mio lavoro i nostri amici tutto il resto eh già beh chi ne dici lo facciamo vieni a vivere con me a new york tu ci sei sempre stato non posso tirarmi indietro andiamo a new york ti amo